Sto abbastanza bene, ho una micro frattura al naso, però insomma domenica dovrei essere a disposizione con l'aiuto di una mascherina e niente, stai abbastanza bene. Domenica sul campo della Carvina, un altro di quegli stadi tipici di Serie D dove è difficile far girare la palla, voi avete sempre fatto fatica in trasferta, state studiando qualche nuova soluzione per sbloccarvi anche lontano da casa? Sì, dobbiamo capire cosa c'è che non va, lavorare sodo, analizzare quello che non va, perché la Serie D abbiamo già capito che campionato è, comunque è un campionato dove, come dici tu, si trovano dei campi brutti, ma delle squadre che si chiudono, stanno lì, poi ti creano un'occasione e sono pericolose quelle ripartenze, quindi dobbiamo capire questo per andare domenica a fare dei punti importanti. Ecco, tra le dichiarazioni del Vice Presidente Romano domenica dopo la partita, la conferenza stampa del Presidente Quintavalli il giorno dopo, sono entrate nello spogliatoio, ne avete parlato oppure vi concentrate solamente sul campo? No, noi pensiamo solo a giocare, che è il ruolo che ci compete, perché dobbiamo andare domenica a prendere dei punti importanti e quindi dobbiamo solo pensare al campo, quello che sta fuori lo lasciamo agli altri o comunque alle persone che compete a parlare riguardante queste cose, quindi noi pensiamo solo al campo, ad allenarci e poi andare a fare dei punti importanti domenica.